Fervono i preparativi al Fermo Forum dove si stanno allestendo gli stand che ospiteranno 200 tra aziende, associazioni e denti. Da domani, sabato 3 marzo fino a lunedì 5, ce ne sarà per tutti i gusti, con tanti personaggi dell'Italia e dall'estero, prestigiosi chef, degustazioni guidate, esperienze di manualità nel binomio tradizione e innovazione. Saranno ben 120 gli eventi in programma, una sintesi ce la fa Alberto Monachesi. La tipicità esprimerà tutte le declinazioni del gusto attraverso ben 120 eventi nei quali poter compiere le esperienze a contatto con i grandi chef italiani che si fanno onore nel mondo con gli Atenei, con la biodiversità espressa in tutte le sue forme. Quindi tipicità sarà un vero e proprio laboratorio nel quale compiere dei percorsi che ci riconciliano con Madre Terra ma al tempo stesso con le innovazioni che scaturiscono proprio dai nostri Atenei, in particolare grazie alle attività sviluppate dalla Politecnica delle Marche, dall'Università di Macerata e dall'Ateneo Camerte. Davanti ai bicchieri di degustazione lo incontriamo a lezione alla Cantina Umani Ronchi di Osimo, dove è in corso la Masterclass di tre giorni per accedere al corso di studi dell'Accademia londinese Master of Wine. Presenti 15 esperti enologi provenienti da sei regioni italiane ma anche da Giappone, Russia e Albania. La tre giorni intervallata da visite nel territorio vede in cattedra tra gli altri la Master of Wine selezionata a Jay Nant. Bisogna assaggiarlo, vedere com'è di qualità e poi bisogna sapere e conoscere le zone e i tipi di vino che si trovano in ogni posto e sapere che non lo so, Nero Davolo viene di questa parte ma non quell'altro. Così è una questione veramente di conoscere molto precisamente. All'estero c'è sempre Piemonte, c'è sempre Toscana, un pochino altre zone però qui ancora forse c'è da spingere. Ieri sera stavo parlando all'isturante perché ci sono due uve italiane bianche che per me sono tra i migliori e sono tutte e due V, Vermentino e Verdicchio. Come siete riusciti a portarli qua? Noi siamo parte di un istituto molto importante che si chiama Istituto Italiano Grandi Marchi, è un'associazione che raccoglie 19 aziende e cantine tra le più importanti italiane, quali solo per citare alcuni nomi, Gaia o piuttosto che Antinori, piuttosto che Sassicaia, quindi alcuni dei nomi più prestigiosi. Noi rappresentiamo in questo gruppo le marche e il gruppo stesso è uno degli sponsor, dei sostenitori dell'Istituto Master Wine. e quindi con questo accordo normalmente la selezione fatta in Italia viene fatta presso alcune delle aziende, le cantine facenti parte del gruppo. Questa iniziativa in qualche modo rispecchia anche un'anima internazionale che necessariamente deve avere il mondo del vino e che ha anche questa azienda? Beh sicuramente lo spirito è proprio quello, sicuramente la nostra azienda ha addirittura una quota export superiore al quanto viene commercializzato in Italia, ma un po' riguarda tutto il nostro comparto che ha questa necessità, ma anche una vocazione a essere esportato con una certa, non dico facilità perché nulla è facile, ma comunque con delle prospettive importanti. Grazie a tutti!